La cifra complessiva che si aggira intorno ai 15 milioni di euro è quella che probabilmente a sé più di altre ha messo in difficoltà i conti del municipio. Sono somme accumulate in passato per i servizi nella discarica di impazzo che l'ente deve a lato CL2 e liquidazione e che rappresentano la parte più consistente delle pendenze che l'ambito ha l'obiettivo di chiudere sul credito vantato dato. Negli scorsi anni si è aperto un giudizio al tribunale delle imprese di Palermo. Il sindaco Lucio Greco già al momento del suo insediamento non fu convinto dalle ipotesi di transazione che erano state formalizzate dai suoi predecessori. A marzo il giudice palermitano dovrebbe esprimersi ma sembra che siano aumentate le possibilità di arrivare ad un accordo. Il commissario liquidatore del lato Giuseppe Lucisano conferma che in corso il dialogo con il comune parla di un dialogo che è aperto sempre nel perseguimento della massima trasparenza e della massima legalità. Ci sono delle note si può secondo Lucisano arrivare ad un accordo dagli uffici del lato sembra trasparire ottimismo sul raggiungimento dell'obiettivo. Prima dell'insediamento della giunta greco c'erano stati tentativi di formalizzare una transazione che però non furono mai concretizzati fino ad indurre l'allora commissario Ato Giuseppe Panebianco a rivolgersi ai giudici del tribunale delle imprese di Palermo così da ottenere il riconoscimento del credito. Per Lucisano chiudendo la transazione con il comune di Gela Ato definirebbe già quasi il 75 per cento dell'intera liquidazione questo nell'arco di poco più di un anno e mezzo dall'insediamento conferma che si sta lavorando in questa direzione. A questo punto anche se bisognerà poi avere una conclusione effettiva della trattativa le parti ovvero Ato e Comune potrebbero arrivare davanti al giudice del tribunale palermitano con un accordo formalizzato. Intorno al maxi credito vantato dal lato rifiuti in liquidazione negli scorsi anni scatto anche un'inchiesta che è sfociata in un procedimento penale nei confronti del dirigente del settore bilancio Alberto De Petro proprio per la mancata certificazione delle somme indicate da Ato per i servizi in discarica del passato e la dirigente di recente si è difeso in aula spiegando di aver operato nel massimo rispetto delle sue funzioni. Il sindaco Lucio Greco e il commissario Lucisano sembrano intenzionati a chiudere il cerchio prima che il giudice del tribunale palermitano possa pronunciarsi intanto entro fine febbraio dovrebbe tenersi l'assemblea del lato per l'approvazione del consuntivo 2020.